ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi non sono impazzita anche al turbante adesso me lo vado a togliere oggi andremo a fare un video un pochino diverso un pochino particolare perché ho deciso che mi voglio tagliare i capelli e di solito me li taglio da sola e poi una volta all'anno vado alla barrucchiera a sistemarli però quando andrò a sistemarli voglio farmi anche la tinta quindi insomma sta di fatto che oggi sarà un smr in cui mi taglio i capelli da sola e poi me li vado un pochino anche ad asciugare con il fono in modo da farvi sentire quei suoni perdonate questo suono di sottofondo non ho la più pallidissima idea di cosa sia fuori c'è buio non lo so perché la c'entra fuori col buio cioè lavori fuori col buio dispiace ho aspettato mezz'ora in attesa che passassero andiamo a togliere il turbante siete parrucchieri quindi se vi scandalizzate per queste cose forse non è il video adatto a voi ma io penso che siano capelli e che ci siano cose peggiori nella vita ricrescono non è pericoloso per la salute quindi è tutto ok se invece vi piace questo tipo di video ricordatevi di rendere un bel mi piace e di commentare se anche voi fate queste cose io ho deciso di tagliarmeli questa volta girando un video smr perché il taglio in sé fa suono stupendo e ogni volta me ne pentivo di non averci girato un video allora sto ecco questi mi dispiace un messamento mi dispiace un messamento per questo rumore sottofondo non lo sento tanto spero che non lo sentiate così tanto non riesco proprio a capire dov'è tra l'altro ascoltandolo da fuori viene da lontano quindi non so che gaspita stiano facendo comunque mi taglio i capelli oggi perché non si noterà dai capelli bagnati però ho i capelli estremamente secchi sulle punte qui da questa parte sono ancora decenti ma da questa parte sono crespissimi confissimi ma stanno proprio a posto perché hanno diverse decolorazioni sotto quindi li devo tagliare non vi scandalizzate neanche per le forbici ok? non mi giudicate mi vado a mettere un telo e li voglio tagliare pari ok? e poi vedrò se fare i ciuffi io lo so, lo so che per molti di voi è inconcepibile ma per me è stra 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 normale unica cosa non mi vedo benissimo che non è il massimo qua quanto sono lunghi pazzesco sono lunghissimi guarderò anche un pochino qui di lato perché ho lo specchio tanto non ci posso fare niente ok vediamo poi quando li asciugo andrò a sistemarli un altro motivo per cui voglio tagliarli è che qui sotto ho dei capelli non so se si noti vabbè adesso no ho dei capelli più corti perché due estate fa mi ero fatta mi ero lasata dietro per comodità e quindi ho dei capelli più corti lì adesso sono lunghi come il ciuffo più o meno ok pettiniamo anche l'altra parte magari la dividiamo un attimo visto che sono più i capelli diciamo prima sotto poi sopra e appunto li taglio soprattutto per questa parte che è veramente secchissima ora sono un po' più corti non avete idea di quanto siano secche queste punte? mi erano già tutte disordinate non so se si noti mi erano già tutte andavano già tutte per i fatti loro sopportabili so che questo video è molto diverso dal solito però visto che alcune persone a volte si lamentano che faccio video tutti uguali ecco poi un video diverso stasera poi vedrò le mie amiche e sicuramente mi diranno ma ti sei tagliato i capelli ancora da sola? ahahahah e io sono lì ma va non si vede niente cioè sono perfetti poi ovviamente me li sistemerò no? oh che bella questa lunghezza devo dire che allora la lunghezza che avevo prima mi piaceva però io sono sempre stata amante di quindi questa lunghezza o addirittura la lunghezza fino a metà collo l'amo che dita proviamo a fare anche il giusto? allora aspettate che devo mettere la riga bene ok allora io di solito tipo faccio prendo da qui non so sia giusta come tecnica faccio così li arrotolo un attimo e poi faccio tipo un po' allora cu allora proviamo così intanto leggermente guardiamo come vengono male si e proviamo solo tipo così vediamo anzi proviamo tipo così ok me li porto indietro e puoi tagliare dritto è uguale ok ecco il giufo sto facendo un mezzo macello quindi sto ferma basta adesso è l'altra parte e penso farò direttamente perfettamente mi è venuto malissimo strano e vabbè e vabbè ricresceranno vedete come a solito mi toglie tipo il giufo così non so fare tutto lo scalato fin qui quindi non oso non oso fare tagliare oltre cioè vorrei tipo provare a fare così però vorrei di peggiorare la situazione sono molto tentata sono molto tentata la solo tipo faccio così ma anche peggio mamma mia adio però lo devo fare anche dall'altra parte ok bellissimi comunque adesso andiamo ad asciugare quello che rimane un po' di bagnato termoprotettore termoprotettore prima di usare il phon però sono curiosa ditemi nei commenti se vorreste un video con solo il suono del phon e seconda cosa se lo vorreste in cui io mi asciugo i capelli con il phon o se io asciugo i capelli scusate se io asciugo i capelli o qualcun altro con il phon quale delle tue preferite? scusate 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.